Cristo risorto carissimi studenti ecco a voi un secondo video di accompagnamento in questa seconda lezione sui Vangeli vorrei prendere la parte che parla di come sono stati scritti i Vangeli e del loro processo come sono giunti a noi è un processo di formazione davvero molto particolare se vi ricordo ve l'ho detto anche nell'introduzione a questa lezione che i Vangeli sembra che comunque siano stati scritti all'incontrario ovvero per prima cosa partono da un annuncio che è stato orale un annuncio dato da parte dei discepoli sulla persona di Gesù un annuncio è una testimonianza di ciò che era stato vissuto quindi è un vissuto esperienziale che viene donato a tutti coloro che non avevano incontrato Gesù ecco qual è l'essenza del Vangelo l'essenza dei Vangeli quanto è importante per noi entrare quindi in questa non solo lezione ma in questo ambito e contesto della formazione dei Vangeli scoprendo che per prima cosa c'è stato un annuncio una testimonianza di un fatto di una persona che è Gesù che è vissuto ha parlato ha compiuto dei gesti dei miracoli ma soprattutto ha sofferto per noi è morto per noi è risorto per noi tutto questo in particolar modo la passione la morte e la risurrezione si chiama Kerigma ovvero il primo annuncio dato dai discepoli alle persone che incontravano che evangelizzavano così è è nato il processo di formazione dei Vangeli lo vedete appunto nella nel quinto paragrafo di questa seconda lezione queste quattro tappe da quella storica quella di predicazione orale la tappa scritta e la tappa redazionale a quello che vi vorrei dire che solo alcune osservazioni che forse non ci avete fatto caso è il fatto che innanzitutto quando è stato annunciato il Vangelo dai discepoli loro non hanno parlato di come è nato Gesù non hanno parlato dell'infanzia non hanno parlato dei magi che vengono da oriente non hanno parlato delle tentazioni di Gesù nel deserto non hanno parlato tanto delle parabole che Gesù raccontava ma immediatamente noi lo vediamo negli atti degli apostoli immediatamente è stato annunciato che Gesù è il Cristo che Gesù è morto per i nostri peccati che Gesù è risorto questo è stato il contenuto iniziale ed essenziale della prima predicazione apostolica carissimi amici dobbiamo davvero entrare in questa ottica di rivedere anche il nostro annuncio lì dove noi operiamo pastoralmente ma anche come cristiani singoli come poter evangelizzare perché spesso facciamo tanta confusione parliamo di tanti aspetti della vita di fede ma anche della vita forse della chiesa o delle di alcuni contesti attuali in cui perdiamo di vista il centro Gesù Cristo che è morto e che è risorto per noi amè guardate che davvero importante quello che vi sto dicendo nel modo in cui i Vangeli si sono formati in queste tappe noi riconosciamo a quale essenzialità come cristiani dobbiamo vivere e dobbiamo andare amè ma soprattutto a quale essenzialità siamo chiamati nella evangelizzazione nella predicazione quando facciamo un piano pastorale partiamo dalla passione morte e risurrezione di Gesù attenzione ho detto passione morte e risurrezione non ho detto passione e morte perché spesso esistono nella chiesa delle correnti spiritualità che si fermano al crocifisso alla morte e la risurrezione che non si vede ma questa è un affare sembra escatologico dell'aldilà di quando tutti saremo in cielo no ciò che rimane è il Cristo risorto che è vivo e che in mezzo a noi ecco allora che i Vangeli e la formazione dei Vangeli ci insegnano che noi quando evangelizziamo quando testimoniamo agli altri alle persone agli amici ai nostri parenti alle persone con cui lavoriamo ma anche quando condividiamo tra di noi la vita di fede dobbiamo avere sempre lo sguardo fisso su ciò che Gesù ha fatto per noi questo è il kerigma questa è la fede cristiana quante volte invece magari pensiamo magari a ciò che avrebbero potuto dirci gli Vangeli apocrifi sull'infanzia di Gesù come ha vissuto la sua giovinezza come era in casa con Maria sua madre con Giuseppe quando faceva il falegname chissà Gesù quale statua scolpiva quale tavolo fabbricava quale sedie guardate davvero siamo molto curiosi e spesso la curiosità ci porta ad aspetti che sono superficiali e non sono essenziali il Vangelo e la formazione del Vangelo stesso ci insegna quindi che il centro nella nostra vita deve essere Cristo morto per me per noi questo è stato il primo annuncio quante volte lo leggiamo negli atti degli apostoli proprio Pietro e gli altri discepoli annunciano il buon Vangelo la buona notizia dicendo sappia tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crucifisso viene annunciato che Gesù è il Cristo che Gesù è il Salvatore noi potremmo dire che Gesù è la soluzione che Gesù è la via che Gesù è la risposta alle nostre domande guardate che il Vangelo ci insegna ad essere che erigmatici e studiare la scuola biblica anche questa lezione ci insegna che l'inizio di come si è formato il Vangelo è una predicazione orale ma soprattutto è stata centrata sulla passione ripeto morte e risurrezione di Gesù questo è l'evento fondamentale poi sono venuti i fatti e le parole di Gesù poi sono venute tutte le altre situazioni di predicazione i discorsi le parabole i miracoli diversi fatti della vita di Gesù addirittura l'infanzia la nascita tante altre situazioni che girano attorno a Gesù stesso ma il centro ce l'ha la passione la morte e la risurrezione di Gesù non distogliamo il nostro sguardo fratele e sorelle cerchiamo come studenti di questa bellissima scuola biblica cerchiamo di fissare lo sguardo su di lui mettere al centro della nostra vita cristiana quello che ha fatto per noi questo è il Kerigma non lo sapevamo prima di fare questa scuola biblica ma adesso che lo abbiamo studiato e lo state leggendo forse avete detto ma è un po' particolare si inizia dalla passione alla morte poi i fatti poi alla fine altre cose addirittura verso la fine sono stati descritti i discorsi e le parabole di Gesù e innanzitutto bisogna anche dire che ci sono state delle finalità diverse di ogni Vangelo e nelle prossime lezioni lo scopriremo una cosa davvero bella entusiasmante perché queste comunità che sono gli evangelisti Matteo Marco Luca Giovanni hanno avuto dei destinatari precisi hanno avuto quindi delle finalità far comprendere a queste persone che che Gesù è il Cristo che Gesù è il Messia che Gesù è la risposta ecco questo video è per farvi comprendere carissimi amici studenti studentesse della scuola biblica che il Vangelo è la persona di Gesù e noi lo possiamo incontrare questa è la predicazione negli atti degli apostoli Pietro quando si alza in piedi durante la Pentecoste dicendo noi vi annunciamo colui che voi avete ucciso colui che è morto per i nostri peccati che è risorto io voglio e vorrei che questa scuola biblica fosse una scuola di vita per voi carissimi studenti e che noi incontriamo Cristo attraverso anche la formazione dei Vangeli e sapere che le cose più importanti sono quelle che riguardano la passione la morte e la risurrezione di Gesù e la cosa che resta mi azzardo a dire è la risurrezione è la presenza di Gesù anche se per noi cristiani l'emblema è il crocifisso ma la realtà che rimane è che Cristo è risorto per questo il saluto dei primi cristiani è il saluto anche della nostra comunità ed è il saluto come io ogni volta che accedo e vi mando qualche video vi dono vi offro Christos aneste Cristo è risorto quindi non perdiamoci nella nostra vita di fede su tante altre discussioni teologiche forse leggete i commenti che ci sono nei video che ogni giorno pubblico e a volte ci sono discussioni anche ultimamente sul Padre Nostro o altre discussioni teologiche pastorali che riguardano la Chiesa quello che ha detto il Papa quello che ha fatto qualcuno quello che si dice fratelli e sorelle io cerco sempre di non deviare né a destra né a sinistra ma di puntare all'essenzialità guardiamo a lui guardiamo alla risposta di ogni problema non sto dicendo che non ci sono situazioni da risolvere ma sto dicendo che se vogliamo davvero camminare integri siamo cristocentrici lasciamo perdere tante altre situazioni da studiare da rivedere ma in un sano ottimismo in un sano equilibrio e non sicuramente nelle critiche i primi apostoli i primi discepoli pietro cefa l'apostoli per eccellenza san paolo quando annuncia la buona notizia di gesù vanno diritti al fatto che cristo è il signore cristo è risorto cristo è il vivente cristo è morto per i nostri peccati cristo già qui sulla terra ci offre di vivere sperimentare il suo regno quindi carissimi vi offro anche una breve preghiera affinché insieme possiamo invocare lo spirito santo e accogliere gesù come nostro signore e ti invito se hai vicino a te la bibbia o la puoi comunque prendere e mettetela vicino al tuo cuore stringila e dirgli grazie signore gesù grazie davvero perché tu sei morto per me grazie signore gesù perché tutti i miei peccati tutti i miei problemi le mie sofferenze le mie domande le mie incertezze tu le hai vinte sulla croce grazie signore gesù perché tu hai fatto tutto questo per me hai accolto anche i miei peccati le hai presi e le portati con te sulla croce grazie perché tu sulla croce hai inchiodato anche le mie malattie le mie difficoltà grazie signore gesù perché poi nel sepolcro dopo tre giorni tu sei risorto per donarmi una vita nuova io ti ringrazio signore gesù per il dono della vita eterna il dono della tua presenza grazie perché anche oggi tu sei vivo tu sei presente concedimi di non essere distratto da altre questioni teologiche nella mia vita questioni non rilevanti donami di accoglierti come signore come quella risposta che il padre ha dato a tutta la mia vita e a te signore gesù sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli per questo vi invito fratelli e sorelle ad annunciare anche noi come cristiani Cristo morto per i nostri peccati Cristo risorto per darci una vita nuova Cristo vivo nella nostra vita amen grazie che mi avete accolto incontriamo Cristo quotidianamente nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni non smettiamo mai di leggerli perché ci parleranno sempre di più della sua presenza che ci aiuta in ogni momento grazie che mi avete accolto al prossimo video ciao grazie a tutti